Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Salva un Amico, siamo alla struttura Zofila Empa di Sondrio, sono con Tiziana e con Brad. Vorremmo iniziare questa puntata con dei ringraziamenti speciali, corretto? Sì, giusto. Allora, io sono la Balia che si è occupata dei cuccioli che sono stati ritrovati in provincia di Como ad Albese con Cassano, sono stati trovati il 28 dicembre in una scatola di cartone in un paese. Il presidente di Empa Como, Marco Marelli, aveva fatto questo post cercando una balia, io ho risposto, poi assieme alla nostra presidente Sara Plozza, abbiamo dato la disponibilità di collaborare e quindi... Quindi si è occupata di questi cuccioli. Di questi cuccioli, mi sono stati portati il 4 di gennaio, piccoli, con gli occhietti ancora chiusi, sono stati con me due mesi, questa settimana sono stati tutti adottati. Quindi hanno trovato tutti casa. Tutti in famiglia, delle meravigliose famiglie adottanti, tutti qua da noi in Valtellina e niente, con l'occasione per ringraziare innanzitutto il presidente per la fiducia che mi ha dato, la popolazione di Como che mi ha iscritto, ha partecipato con l'invio del cibo. Insomma, quindi da Como alla Valtellina questi piccoli cuccioli hanno trovato tutti noi a casa, siamo tutti felici. Invece il piccolo Brad, ancora in cerca di una famiglia. Il piccolo Brad, sì, lui è il nostro Brad Pitt della struttura. Che è proprio bello, infatti. È molto bello. È un cagnolino del 2018. E qua da noi, ormai da diversi mesi, inizia a soffrire un po' il boz. È un cane abituato fuori. Lui arriva dal sud, è un cane di strada. Molto dolce, molto affabile con le persone, molto coccolone. Per cui per lui si cerca una bella famiglia adottante. Qual è la famiglia ideale per Brad? La famiglia, lui è un cane molto dinamico, adora le passeggiate, è ben inserito, fa delle belle passeggiate, lo si può portare al bar, al ristorante, è molto bravo. Sì, perché è dinamico ma è anche tranquillo. È tranquillo, è un cane, sì, interagisce bene con gli altri, poi eventualmente andrà testato se qualcuno ha altri cani, però è un tipo molto pacifico. Quindi può andare d'accordo anche con dei bambini? Con i bambini sicuramente, con gli animali lo si testa, sia con i gatti che col cane, però è bravo. Quindi fa lunghe passeggiate, è abituato ad uscire, va bene al guinzaglio. È da troppo tempo qui al canile. È da troppo tempo qua, qui deve essere un periodo di transizione per loro. Esatto. Per cui questa cosa comincia a stagli un po' stretta, giustamente, era abituato in strada dove faceva tutto, si arrangiava da solo, eh? Vero? Ecco, quindi l'ideale è anche come ambiente, una casa con giardino. Una casa con giardino, ma lui sarebbe benissimo anche in casa. Anche in appartamento. Su un cucinone, sì, lui è bravo. L'importante, lo ricordiamo, è far fare delle passeggiate. Delle passeggiate, sì. A tutti amici a quattro zampe almeno tre volte al giorno. Perfetto, quindi speriamo davvero che per Brad la permanenza qui al canile sia ancora breve e che possa trovare presso una famiglia che è a casa. Per adottare o avere ulteriori informazioni basta contattare il canile EMPA di Montagna in Valtellina al numero 349 5541691 o alla mail sondrio-empa.org. Grazie a tutti.